Buongiorno a tutti, siamo a Forlener, a Erba, siamo qui con Formazione 3T che ci racconta la sua attività. Sì, io sono Emanuele di Formazione 3T, siamo una società che si occupa di formazione nel campo dell'arboricoltura e in questi due giorni effettueremo dei workshop tecnici, oggi ci tratteremo le tematiche dei paranchi di fune, del corretto utilizzo della motosega e domani avremo un workshop all'esterno di rigging, quindi di abbattimento controllato e la presentazione della nuova catena XCAT o Sguarna. Perfetto, grazie, buon lavoro.